Ristretto come il brodo della nonna quando in casa c'è la febbre, Maria Luisa Forte, sindaca di Campobasso, si avvia a varare così la prima giunta del suo mandato, in maniera, come dire, succinta, ristretta appunto. E' fissato infatti per domani alle 9 a Palazzo San Giorgio l'avvio ufficiale della consigliatura uscita dal doppio turno amministrativo, quello in prima battuta dell'8 e 9 giugno e quello di ballottaggio del 23 e 24 successivi. Occasione la prima riunione del consiglio nella quale la sindaca da statuto dovrà dire chi sono i componenti l'esecutivo chiamati ad affiancarla, per restare alla metafora pennuta tanto cara agli americani che si sa da Salinger a Holden in avanti, sono esperti di anatre. L'esecutivo forte e ristretto come il brodo sarà quindi figlio di un brodo di papera zoppa. Queste sono le condizioni di partenza quindi date da una sindaca tinta delle sfumature del rosso e un consiglio pittato da azzurro, colori diversi, coalizioni diverse, ma teste tutte in ebollizione da tutte le parti per cavarsi d'impaccio, ovvero trovare una soluzione per una convivenza che al momento appare impossibile come sfilarsi un paio di pantaloni dalla testa. Eppure la politica e il regno dei trucchi in circolazione esistono prestigiatori capaci di far sparire insieme al coniglio anche il cappello. Vedremo allora domattina cosa accadrà, intanto oltre alla giunta ristretta ci sono altre cose trapelate da bocche cucite e mascelle serrate. Ad esempio la posizione della coalizione civica dal fronte Pino Ruta dicono che seppur ristretta la giunta dovrà soddisfare le richieste poste alla base dell'accordo politico, patto che prevede l'assegnazione di tre assessori ai civici e tra questi il vice sindaco. Dal fronte PD e 5 Stelle telefoni spenti e lingue annodate, segno di galleggiamento in altissimo mare. i segretari Bontempo e Federico, in versione Wilson nel film Cast Away, si limitano ad una espressione di cuoio, sorridono e non rispondono al telefono. Dal lato del centrodestra il barometro segna tempesta, malumori per la mancata definizione di una posizione complessiva delle relazioni da instaurare con la controparte politica. Mentre da Taluni Ambienti, specie regionali, l'unica cosa alla quale si mira è l'elezione dell'ex candidato sindaco Aldo De Benedittis a presidente del Consiglio Comunale, dall'altro quello dei consiglieri si mira ad una trattativa più ampia con Maria Luisa Forte, trattativa che secondo Taluni potrebbe spingersi fino all'assunzione diretta di ruoli di governo. Anche qui tuttavia siamo per l'alto mare, tanto alto che qualcuno arriva a ipotizzare la diserzione dell'aula in prima convocazione e quindi in assenza del numero legale al rinvio di ogni incombenza a lunedì prossimo con il Consiglio Comunale di Campobasso convocato in seconda adunanza. In mezzo c'è il fine settimana caratterizzato dal bel tempo e quindi tra un pediluvio al mare e una partita a racchettoni qualcosa potrebbe anche accadere.